Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito, safegatepro.com Bentornati all'appuntamento con le meteo di TV6. L'alta pressione torna pian piano a rinforzarsi a partire da ovest, mentre una perturbazione attica sta lambendo il lato adriatico e il sud, dove porta venti intensi, qualche equazione e qualche nevicata in alta collina. Però questo anticiclone delle azzorre pian piano spazzerà via queste correnti più fredde, quindi riporterà il sole su tutta la nostra penisola. Quindi nel corso di questo martedì 8 febbraio, cieli sereni praticamente su tutto l'Abruzzo, torna il sole, torna il bel tempo e anche un lieve aumento delle temperature. Farà però particolarmente freddo di notte all'alba con minime tra i meno 2 e i 4 gradi. La ventilazione ancora proveniente dai quadranti settentrionali con qualche raffica sostenuta tenderà gradualmente ad attenuarsi nel corso della giornata. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci al prossimo aggiornamento. SafeGate Pro Igenizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visite il nostro sito. SafeGatePro.com